Scusate il disturbo, lei deve essere Amanda. Perché sei venuto qui? Nel mio settore deve riconoscere gli schemi che governano il mondo. Così puoi prevedere il futuro. Sapevo che sarebbe successo qualcosa. Non capisco. In che senso? Emergenza nazionale. Si sta verificando un cyberattacco in tutto il paese. La verità è più spaventosa. E qual è la verità? Andrà tutto bene, vero? Non sei tu che dici sempre se non sei ancora paranoico forse è troppo tardi? Non avete ancora capito che cosa sta succedendo? Ci hanno abbandonati. Niente tornerà alla normalità.